Andata del secondo turno, subito un blocco di partite che comprende Napoli-Modena, Cagliari-Udinese e Ancona-Genoa. Vediamo. Pur privo di careca e terni impegnati nelle rispettive nazionali e degli squalificati pari a Cornacchia, il Napoli si è espresso ad ottimi livelli e senza affanno. Al solito i grandi trascinatori sono stati Zola e Fonseca. Di Fonseca la bellissima girata al quarto minuto. Suo anche il passaggio che consente al giovane Ferrante di segnare il primo gol al quattordicesimo. Il Napoli precampionato ha evidenziato finora qualche problema difensivo, ma il Modena non arriva mai dalle parti di Galli, pressato com'è da un avversario che sfiora più volte il raddoppio. Al trentunesimo punizione di Zola, si distende molto bene Lazzarini. Zola e Lazzarini, stupendi protagonisti al trentacinquesimo, il Napoletano si fa spazio alla grande e la sua bellissima conclusione è deviata dal portiere modenese, con un poderoso scatto di reni. Nella ripresa al settimo il raddoppio, punizione di Fonseca, Policano di testa, mette nel sacco. Al nonno la prima conclusione su azione manovrata del Modena. La conclusione è controllata da Galli senza problemi. Al trentottesimo, per fallo su Policano, lanciato a rete, penalty. E Fonseca, che per tutta la partita aveva colpito Legni e servito pallegol ai compagni, realizza il 3-0.